Giungono novità importanti sul fronte Coppa Italia Eccellenza, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha determinato tramite sorteggio che sarà il Martina il prossimo 2 dicembre a ospitare il Sava nella sfida d'andata della semifinale del quadrangolare eliminatorio. Ciò implica che due settimane più tardi, quindi il 16 dicembre, la sfida di ritorno si disputi al Camassa a dimora della squadra di Passariello. Il 2 dicembre inoltre si deciderà chi tra Corato e Barletta approderà la finale della competizione. Per i Neroverdi, nell'ultima giornata del triangolare, servirebbe un miracolo considerando che per assicurarsi l'ultimo atto dovrebbero imporsi sulla truppa di Farina con 4 gol di scarto. Il prossimo 16 dicembre, anche se manca ancora l'ufficialità, dovrebbe inoltre completarsi Manfredoni a Corato. La gara, sospesa lo scorso 7 novembre per Nebbia, riprenderà dal venticinquesimo minuto del primo tempo.